Il tuo unico dovere è salvare i tuoi sogni, scrisse Amedeo Modigliani, e da questo concetto nasce il progetto MUVART, ideato e realizzato dalla Fondazione di Ricerca Scientifica Amedeo Modigliani per promuovere nuovi artisti emergenti. 85 di loro, di cui 23 provenienti dall'estero, il più giovane a 16 anni, sono in mostra fino al 18 marzo negli spazi della Sala dell'Oratorio di San Filippo Neri, tra le poche architetture barocche di Firenze e oggi Sala della Musica della Fondazione Zeffirelli. È un progetto che è nato da un anno circa, quindi abbiamo fatto più esposizioni a Liverpool, a Napoli, a Castel dell'Ovo. È un concetto nuovo, cioè quindi riunire gli artisti di un certo livello in location prestigiose, quindi dare la possibilità che possano farsi conoscere, possano entrare in contatto con operatori del settore e tutto quello che c'è poi di contorno sull'arte, quindi creare professionalità fra loro, nuove connessioni. Poche le defezioni a causa dell'emergenza coronavirus e la determinazione ad andare avanti. È una dimostrazione che Firenze non chiude. È così, cerchiamo di non fermare la nostra attività ordinaria, chiaramente nel rispetto di tutte le disposizioni di sanità. Alcuni artisti hanno deciso magari di disdire o no? Anche loro hanno partecipato? No, la maggior parte ha partecipato. Ci sono un paio di artisti che sono cinesi, quindi non possono venire. Ci sono degli artisti di New York e degli operatori del settore che sono negli States e che hanno problemi più che altri legati al rientro. Però noi non ci fermiamo. Patrocinata dal Comune di Firenze, la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.